Buongiorno a tutti, oggi siamo qui con Giuseppe che mi fa vedere un'invidia bestiale per la muscolatura che ovviamente arriva attraverso giorni e giorni di palestra, invece non ne faccio, devo essere zitto. Allora ci troviamo una bellissima, da togliere una bellissima Cisti, Sebacia, che è da un po' di mesi che tortura con la sua presenza Giuseppe che ha deciso ovviamente di eliminarla. La scelta di eliminarla con la tecnica Scareless, quindi con un forellino di un millimetro e mezzo che porterà all'inucleazione di tutta la componente sebacea fino all'eliminazione anche della capsula come abbiamo già visto in altri interventi, in casi analoghi di Cisti sul cuoio capelluto o in altri distretti. Come avevo già spiegato il paziente in prima visita, nessun dolore, una piccola anestesia, eliminazione totale e assoluta della capsula, possibilità di una recidiva pari a zero. Giuseppe se siamo pronti, io preparo il campo operatorio e cominciamo. Ottimo. 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 Abbiamo eliminato quasi completamente la componente sebacea all'interno, con questo escavatore siamo andati all'interno della capsula, abbiamo raccolto tutto, al tatto sentiamo che è rimasto circa un 10%, adesso andiamo ulteriormente a eliminare la componente interna della capsula, dopodiché ci dedichiamo alla capsula, andiamo a toglierla. Questa è una cisti che ha avuto diverse infiammazioni, quindi avremo delle componenti fibrotiche all'interno che forse non ci daranno la soddisfazione di vedere la capsula uscire integralmente, probabilmente uscirà frammentata, l'importante è ovviamente eliminare qualunque componente, se poi saremo fortunati Giuseppe, ed esce integra, sarà ancora più divertente perché avremo proprio enuclearsi dal forellino. Come immaginavo all'interno abbiamo delle resistenze all'esterno della capsula, abbiamo delle resistenze del tessuto fibrotico, problema relativo, ci metteremo soltanto un pochettino più di tempo nella eliminazione. Grazie. Cisti è completamente tolta, la capsula è venuta via frammentata, qui riusciamo a vedere benissimo il tessuto, la zona sovramuscolare, adesso ovviamente io lo sto guardando molto ingrandito, dal video probabilmente non si vedrà più di tanto, ma si ha comunque la percezione della zona interna completamente libera. Abbiamo un forellino di 2 mm in questo caso, estremamente contenuto, con la guarigione avremo la cicatrice praticamente invisibile. Verrà fatta lungo le linee del pieghe della pelle e risulterà ulteriormente ben poco visibile. Ecco fatto, intervento terminato, come diciamo prima, un foro di 1,8 mm barra 2, ho messo due punti di sutura rispetto alla media che è un punto singolo perché Giuseppe ha una massa muscolare e dei movimenti che possono portare ad avere troppa tensione nel distretto, di conseguenza ho preferito esagerare mettendo un punto di sutura in più. La guarigione prevede adesso che venga tolto il punto tra una settimana, adesso metteremo della gentamicina sopra, il lavaggio antibiotico all'interno è già stato fatto, all'interno non c'era più nulla. Giuseppe, com'è andata allora? Raccontiamo un pochettino com'è andata, dolore, non dolore, cosa è successo? C'era dolore. Ottimo, massima soddisfazione, il paziente è sopravvissuto soprattutto, ottimo, bene, anche questo, missione compiuta.